Benvenuti alla bottega didattica per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza, sono Gianfranco Marini e in questo video tutorial volevo presentarvi Geniali. Geniali è uno strumento web straordinario sotto molti punti di vista che serve per creare contenuti anche per l'apprendimento. Vi consiglio, qualora siate interessati ad una rapida visione delle funzionalità e potenzialità di Geniali, di consultare le video presentazioni fatte da Luca Raina 5 minuti e da Andrea Maiello 3 minuti che sono molto rapide, chiare e precise. Io invece mi dilungherò per spiegare la procedura con cui funziona Geniali, le varie tipologie di oggetti che si possono creare con Geniali, i vari tipi di account oltre a quello free e anche le caratteristiche principali dell'editor di Geniali, cioè gli strumenti che l'editor ci mette a disposizione. Inserirò il link nelle schede che potrete trovare in questo stesso video in modo che voi, se non lo desiderate, possiate vedere i tutorial di Luca Raina e Andrea Maiello. Bene, dicevo che Geniali è abbastanza straordinario perché prima di tutto è una piattaforma online che io definirei multifunzionale. Perché multifunzionale? Perché possiamo creare molteplici tipologie di oggetti digitali differenti per scopi differenti. Fondamentalmente presentare, interagire, spiegare e distribuire. Vediamo subito quali sono questi contenuti digitali interattivi che Geniali ci consente di creare. Mi trovo nell'area di lavoro di Geniali e per creare un nuovo Geniali, come viene chiamato, insomma, devo cliccare su questo più oppure anche su questo qui a sinistra nel menu principale. Una volta che clicco, ecco che, ingrandisco, posso vedere i vari tipi di oggetti che posso creare con Geniali. Per presentare, prima di tutto presentazioni, video presentazioni, sarebbero degli slideshow animati o animazioni video formate da slideshow, dei dossier molto interessanti perché si tratta di modelli, strutture che mi permettono di organizzare all'interno di questo documento varie risorse riferite a un tema, a un evento, a un personaggio, a un progetto, a un argomento che sto affrontando. Quindi, molto interessanti anche i dossier. Poi abbiamo risorse educative che un po' funzionano allo stesso modo. Vedete, abbiamo per esempio un'unità didattica e quindi abbiamo uno schema precostituito che io posso utilizzare per inserire tutte le risorse, gli strumenti, che sono esercizi, video, appunti, presentazioni, eccetera, che mi servono per affrontare con l'unità didattica. Abbiamo, vedete, oppure strutture o modelli di progetto, molto carina la struttura a tavola periodica, anche se purtroppo è premium e quindi non la possiamo utilizzare. Il puzzle, si tratta di strutture che fanno ricorso a metafore differenti, vedete, queste sono colonne e così via, o certificazioni, che fanno riferimento a metafore differenti di organizzazione visuale dei contenuti, perché c'è da dire subito che Geneli è un'applicazione che mira a fondere, integrare armoniosamente, grafica, testi e quant'altro. Poi abbiamo l'interazione, possiamo creare oggetti interattivi, propriamente interattivi per esempio, posso creare immagini interattive, le vedete qui, i vari modelli, ma posso anche iniziare con una pagina bianca sul modello di ThinkLink, oppure media interattivi, giochi e quiz, per spiegare poi infografiche, timeline, elenchi, overview, che sarebbero visioni sinottiche e panoramiche, in cui io posso raccogliere le risorse, per esempio, del web o dal mio computer, in modo da dare una visione sinottica su un dato argomento ai miei interlocutori. Infatti vedete che le metafore a cui fa ricorso sono i diagrammi di Venn, una matrice di competenze, in questo caso sistemi vari di tabulazione, di schedatura, eccetera, eccetera. Ma anche personaggi, quindi è interessante anche per lo storytelling, perché alcuni di questi modelli sono invece orientati a definire personaggi di tipo storico, personaggi narrativi e così via. E poi mappe. Io posso caricare una mappa di qualsiasi tipo, presa dal mio computer o utilizzando uno di questi modelli, e poi inserire in questa mappa elementi interattivi, link, immagini, video, eccetera, in modo da studiarla, approfondirla, esplorarla. Può essere una mappa geografica, una mappa politica, una mappa economica, una mappa demografica e così via. Infine distribuire. Rapidamente posso pubblicizzare eventi, posso creare cartoline elettroniche, poster, o anche CV, quindi curriculum vitae. Geniali. Come si diceva, è freemium. Mi dà la possibilità, la versione free, di creare un numero illimitato di contenuti, che possono essere visualizzati un numero illimitato di volte, e mi dà l'accesso a tutti gli strumenti di editing, e a tutte le risorse che sono classificate come free. Per risorse intendo le icone, le immagini, gli sfondi, le linee, eccetera, che Geniali mi mette a disposizione. Ecco qui le due tipologie di account, education e professional. Dimenticavo di dire che la versione free mi consente anche di lavorare in modalità collaborativa. Dicevo, noi ci orienteremo ovviamente verso la tipologia education. Diciamo che il mio rapporto qualità-prezzo è quello della versione edu-pro, anche se si può rimanere alla versione free. Qualora però si ritenga che sia interessante e ne si faccia un ampio uso, si può tranquillamente utilizzare la versione a pagamento, anche perché, francamente, non si possono usare nel corso di un anno scolastico, in modo abituale, più di 4, 5, 6, 7 applicazioni. Ecco, altrimenti c'è da impazzire. E siccome Geniali, come anche altre piattaforme, per carità, offre una molteplicità, come abbiamo visto, di contenuti possibili, è uno strumento, diciamo un coltellino svizzero, no? Permette di far fronte a molte esigenze, a tante esigenze, e quindi potrebbe anche uno pensare di pagare. Qui avete la possibilità di confrontare le caratteristiche delle varie versioni. Per esempio, vedete che con la versione free non ho un link diretto, una pagina, cioè dove sono visualizzabili le mie creazioni digitali, non posso scaricare, effettuare il download in formato immagine dei miei contenuti, ci sarà il logo che verrà visualizzato, non si può cioè eliminare, non si può rendere privato quanto andiamo a realizzare, non si può accedere a quelli che sono ovviamente i contenuti più belli, i modelli, le strutture, le icone, le linee, la grafica più bella. Però, ripeto, potrebbe anche bastare per molti. Il vantaggio di Genialy, come recita uno degli spot sull'home page del sito, è che con un singolo strumento possiamo creare tantissime cose differenti. Tantissimi contenuti digitali e didattici. Quindi quali sono le caratteristiche di Genialy? Lo vedremo, è altamente usabile, cioè ha un'interfaccia che è molto intuitiva e si basa sulla tecnica del clicca e trascina, quindi è adatto a chiunque non richiede competenze specifiche. Perciò è anche molto rapido l'apprendimento dell'uso di Genialy e usarlo è abbastanza semplice, cioè si riesce a realizzare dei contenuti in modo abbastanza semplice. A volte basta modificare leggermente i modelli che ci vengono proposti per concludere in pochi minuti, come è mostrato sia da Luca Reina che Andrea Maiello nei loro tutorial. È versatile, proprio per queste sue caratteristiche, proprio perché è capace di produrre tanti tipi di oggetti, dall'infografica alla presentazione, dall'immagine interattiva al quiz, al gioco, eccetera, si presta ad essere facilmente integrato nelle attività didattiche. Quindi non abbiamo il problema di inventarci un'attività didattica apposta per usare Genialy, come capita spesso in quel modo errato di proporre le tecnologie digitali nella didattica, ma è proprio il contrario. Se abbiamo un'esigenza didattica, una qualsiasi esigenza didattica, o meno quelle più comuni, è molto probabile che Genialy ci offra uno strumento che soddisfa quell'esigenza. Bene, spieghiamo prima di tutto il nostro ambiente di lavoro. primo menu a sinistra, questo è il menu per gestire il nostro account, qui possiamo modificare il nostro profilo, le solite cose, configurare le notifiche, per esempio, modificare la password, caricare una nostra fotografia, e via dicendo. Quindi, insomma, è inutile stare a vedere. Mentre qui a sinistra, vedete, abbiamo qui le mie creazioni, quindi io ho creato qualche contenuto per prova, qui potremo creare delle cartelle per ordinare i nostri contenuti, ma non lo possiamo fare, perché questo si può fare solo nella versione premium. Bene, dicevo, possiamo cliccare su Create Genialy, e scegliere, primo passaggio, e secondo passaggio, cliccare su quanto ci interessa. vogliamo, per esempio, creare una timeline, e andiamo a vedere le varie timeline. Come vedete, sono modelli molto carini, ricordatevi che quando c'è la stella è a pagamento, o meglio, non è a pagamento, è utilizzabile solo per chi ha la versione premium. Vedete, qui abbiamo più altri tanti modelli per le infografiche, ovviamente, con la versione premium abbiamo più modelli, vedete, qui sono modelli Education, altri modelli, non c'è niente, Corporate, aziendali, e tutti. Bene, torniamo alle nostre timeline, scegliamone una, ci verrà chiesto di usarla, sì, vogliamo usarla, e possiamo anche, vedete, cambiare, no, non da qui, ecco che sta caricando il modello, e questa è la nostra timeline. Il terzo passaggio è quello di inserire qui un titolo, quindi scriveremo prova timeline, e di cominciare a editare il documento utilizzando questo menu a sinistra che ora illustrerò prima di passare al salvaggio, al passaggio successivo. Quindi, elementi interattivi, qui apriamo il lucchetto, ecco, in modo da poter modificare, clicchiamo, si apre un menu e abbiamo sei tipi di elementi interattivi, che, vedete, dei marcatori, possiamo, ecco, vedete, utilizzarne uno qualsiasi, prendiamo questo, lo trasciniamo qui, anzi, basta cliccarci, come vedete, e questo elemento interattivo io posso fargli fare delle cose, e qui apriamo il menu contestuale, il secondo tipo di menu, che illustrerò in seguito. abbiamo, vedete, poi dei pulsanti d'azione, che posso rilasciare, spostare come voglio, e così via. Poi passiamo al testo, qui posso aggiungere un paragrafo, vedete, ho aggiunto un paragrafo, posso ingrandire, posso formatare il testo, come voglio, posso cambiare il colore, mettiamo bianco, posso cambiare lo sfondo, eccetera, eccetera. bene, l'ho evidenziato, adesso naturalmente io sto un po' a casaccio, inserendo elementi, poi abbiamo risorse, qui possiamo inserire forme, possiamo inserire linee, possiamo inserire pulsanti, possiamo inserire numeri, immagini, possiamo cercare nelle risorse, possiamo, vedete, ci sono vari tipi di immagine, e così via, icone, qui abbiamo immagini gratuite, ad alta definizione, mappe, eccetera, eccetera, GIF, background, la stessa cosa, possiamo anche, vedete, trascinare un'immagine qui, dal nostro computer, poi abbiamo animazioni, e qui possiamo configurare, prendo enter, il tipo di azione, e così via, bene, incorporare che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio, io prendo un video da YouTube, ma può essere un'immagine, una mappa, una tabella, un grafico, incollo qui l'indirizzo, e clicco, verrà generato il codice di incorporamento, automaticamente incorporato nel mio oggetto, adesso in una timeline, questo non ci sta a fare niente, a meno che non si tratti della storia del Napoli, verrà incorporato nel mio oggetto, quel determinato, nel mio oggetto, scusquare, nel mio contenuto, quel determinato oggetto, che io ho, di cui io ho usato il link, e infine abbiamo delle immagini, anche in questo caso, io posso cercare l'immagine, su internet, oppure, posso trascinarne una in quest'area, in modo che, venga caricata, ecco, per esempio, rilascio qui questa immagine, e la posso inserire dove voglio, quindi come vedete è molto semplice, poi naturalmente posso anche modificare, i vari oggetti, posso ingrandire o ridurre le dimensioni, dell'oggetto che sto creando, e vedete, agire in modo più efficace, sui singoli oggetti, bene, diciamo che questi sono gli strumenti, messi a disposizione da questo menu, ma continuiamo la procedura, eravamo rimasti al terzo passaggio, quello in cui, con questo menu a sinistra, e utilizzando anche il menu in alto, che cambia, a seconda dell'oggetto che io, vedete, seleziono, cambia anche questo menu, a seconda che seleziono un'immagine, oppure del testo, compariranno strumenti di formatazione, e per l'immagine compreranno strumenti, che mi permettono di agire su quell'immagine, cancellarla, duplicarla, spostarla, eccetera, eccetera. Il quarto passaggio, se lo vogliamo fare adesso, prima di salvare, è settings, cioè, fornire, configurare, quelle che sono le impostazioni del nostro oggetto, nero o bianco, lo stile, possiamo abilitare i titoli, il cambio di pagina, la condivisione, il full screen, e così via. Posso anche, mantenere l'oggetto, si può o adattare allo schermo, in cui verrà visualizzato, o la razio, cioè il rapporto tra altezza e lunghezza, rimanere fisso, non posso eliminare il logo di Genialy, posso invece, non posso neanche, vedete, inserire una descrizione, o dei tag, perché sono tutte caratteristiche, insomma, non posso fare quasi niente. L'ultimo passaggio, è quello di salvare, e infine, non posso scaricare, ovviamente, verificare il nostro lavoro, questa è l'anteprima, e condividere. Come vedete, posso condividere nei vari social network, oppure posso ottenere un link, che posso fornire a chi voglio, o ancora un codice per incorporare il mio oggetto, in un blog, in un forum, in un sito, e così via. Rimane da verificare un'ultima caratteristica, ma adesso, facciamo per esempio, ecco, un'infografica, scegliamo a caso, e cioè quello che ho chiamato menu contestuale, che ci permette di agire, sui singoli elementi, allo scopo di renderli interattivi. Quando io seleziono un elemento, o quando ne introduco uno, ecco qui, cosa succede? Appare, come vedete, un pulsante, cliccando su questo pulsante, si apre l'ultimo strumento, che andiamo a vedere, e che mi permette di realizzare, quattro forme diverse di interazione. Tool tip, io posso inserire testo, oppure inserire un'immagine, o un link, ecco per esempio, chiusiamo un 18, e scriviamo Luca Reina, Geniali, selezioniamo, e aggiungiamo un link, che è il link, al tutorial di Luca Reina, e facciamo sì, che si apra in un'altra finestra. Come vedete, ho inserito anche un link, continuiamo la costruzione, di questo primo tipo di interazione, potremo inserire anche un immagine, adesso non lo faccio per brevità, salviamo, e andiamo a vedere, nella nostra anteprima, che cosa è successo. Devo dare un nome, ecco l'anteprima, vedete, quando passo il mouse, sopra l'oggetto, che ho reso interattivo, compare, un riquadro, con le informazioni, che ho digitato, e posso andare a vedere, il tutorial di Luca Reina. Proviamo adesso, a rendere interattiva, questa immagine, in questo caso, si aprirà una finestra, molto più ampia, ma il procedimento è lo stesso, qui potrò mettere, per esempio, un'immagine, poi inserisco testo, anche qui, posso inserire, ovviamente, anche righe, righe di testo, posso fare, tutte queste operazioni, cambiare il font, cancellare, sottolineare, naturalmente, eccetera, eccetera, posso anche inserire una tabella, incorporare oggetti, e così via, salvo, e andiamo anche qui, a vedere il risultato, come vedete, quando clicco, sopra l'elemento, che ho reso interattivo, compare una finestra, con tutte le informazioni, e le risorse, che ho inserito, adesso andiamo, un po' più rapidamente, prendiamo un altro elemento, ancora, che può essere, questo più, come può essere, questa ombra, andiamo un più, clicchiamo, e le altre due operazioni, che posso fare, quali sono, vai alla pagina, in questo caso, un'infografica, di una pagina sola, ma se fossi, in presenza di una presentazione, e avessi diverse slide, ecco, potrei far sì, che cliccando su quell'elemento, potrei saltare, a un'altra slide, della mia presentazione, e l'ultimo, ovviamente, è l'inserimento, di un link, posso, cioè, inserire qui, un link, salvare, e, come vedete, questo elemento, se non sbaglio, cliccando su questo elemento, si aprirà, la pagina, che ho inserito, naturalmente, poi, ciascuno di voi, a seconda delle sue esigenze, modificherà, i singoli elementi, delle scritte, lo sfondo, e così via, a seconda, di quelli che sono i suoi obiettivi, le sue esigenze, e così via, io volevo solo mostrare, gli strumenti, e la procedura, che si utilizza, bene, sono riuscito ad arrivare, a 21 minuti, e quindi, insomma, sono, del tutto soddisfatto, e, vi saluto, e vi auguro, una buona giornata, che si utilizza, che si utilizza, Grazie.